Amici sportivi, benvenuti alla sesta puntata di Spazio Neve, il magazine di Viciozzura TV dedicato agli sport invernali, realizzato come sempre in collaborazione con il Comitato Provinciale della Federazione Italiana Sport Invernali. Ci troviamo in una location decisamente particolare oggi, presso il punto vendita di Piedimulera della Latteria di Crodo, per un nuovo appuntamento con le news che riguardano il mondo degli sport invernali del Verbano Cusiossola. Partiamo come sempre dalla presentazione dei nostri ospiti. Qui al mio fianco c'è Stefano Samonini, presidente dello Ciclac Macugnaga. Buonasera. Poi abbiamo qui vicino Andrea Iacchini, che è uno degli allenatori, sempre dello Ciclac Macugnaga. Ciao a tutti, buonasera. E poi qui al mio fianco abbiamo il vicepresidente dello Ciclac Macugnaga, Daniele Moretti. Buonasera. Buonasera a tutti. E poi abbiamo Ferdinando Iacchini, presidente onorario e memoria storica dello Ciclac Macugnaga. Buonasera. Prima di conoscere meglio i nostri ospiti ricordiamo le splendide prestazioni di Alessia Crippa, che nei giorni scorsi ha conquistato due prestigiose secondi posti nella Coppa Europa di Scheleton sulla pista di Innsbruck. Nella prima prova dietro la russa Tarecenkova Alina e poi nella seconda dietro la britannica Amelia Coleman. Risultati che confermano la crescita esponenziale della nostra Alessia, che come ricorderete è già stata ospite in una delle puntate precedenti di Spazio Neve. E poi come non dimenticare, tra l'altro, proprio oggi che stiamo parlando dello Ciclac Macugnaga, il mitico Alberto Corsi, che è stato il primo maestro di sci a Macugnaga, che sempre a Innsbruck ha vinto sia slalom gigante sia slalom speciale nella categoria B12 nel World Winter Master Games. Passiamo ora a parlare con i nostri ospiti. Partiamo con il presidente dello Ciclac Macugnaga, Stefano Samonini. Allora Stefano, Macugnaga è una delle location più prestigiose del comprensorio scistico del VCO e vanta una storia anche sportiva piuttosto importante. Una bella sfida per voi portare avanti questa tradizione? Sì, certo. Noi siamo pronti comunque, siamo un bel team molto affiatato e ci diamo da fare appunto per portare avanti questa tradizione che è dello Ciclac Macugnaga. Tu sei presidente da pochissimo tempo perché sei stato eletto a dicembre. Le tue prime impressioni? Sì, sono praticamente due mesi che sono presidente. Niente, noi continuiamo appunto col lavoro che è stato fatto dai precedenti, chi mi ha preceduto diciamo e noi siamo qua. Ecco. Ecco, avete già degli obiettivi a lungo termine? Hai già pensato quali sono quelli che possono essere gli obiettivi magari non nell'immediato ma nei prossimi anni di tua presidenza? Ma il nostro obiettivo sicuramente è quello di continuare a fare sciare i nostri ragazzi. Fino adesso ci siamo sempre riusciti e speriamo di continuare. Ecco, lo Ciclac Macugnaga non ha grandi obiettivi agonistici, ecco. Però ci diamo da fare. Ok. E attualmente quanti sono gli atleti che gareggiano con le vostre insegne e in quale discipline? Allora, noi non abbiamo purtroppo per noi non abbiamo solo lo sci alpino, non abbiamo sci di fondo e neanche altre discipline. Ci sono cinque bambini della preagonistica che sono quelli più piccoli diciamo, poi abbiamo 20 bambini che sono della categoria Pulcini, perciò Cuccioli e Baby, 8 della categoria Children, che sono quelli ragazzi allievi e 8 della categoria Giovani, che sono i più grandi, diciamo quelli dai 17 anni in su, che sono diciamo i nostri futuri maestri. Saranno quelli che sostituiranno il nostro Andrea qua. Speriamo a breve, più tardi possibile. C'è mio figlio, che sia lui che un'altra ragazza hanno già passato le selezioni per diventare maestro di sci. Ecco, già da queste poche battute si capisce che siete prima di tutto una grande famiglia, perché comunque avete comunque in relazione anche al numero di persone che abitano a Macugnaga già un bel numero di atleti? Sì, ecco, c'è da dire che non sono tutti residenti a Macugnaga, ci sono anche parecchi ragazzi e bambini che sono diciamo hanno, vivono magari a Milano o e hanno, diciamo, sono adottivi di Macugnaga perché vengono da sempre a Macugnaga. Però noi, ad esempio i più piccolini, che sono quelli della preagonistica, sono cinque bambini e sono tutti di Macugnaga, perciò quelli sono il nostro fiore all'occhiello, diciamo. Bene, grazie Stefano, Stefano Samonini. Adesso abbiamo detto che lo Ciclaba Macugnaga è una grande famiglia e qui abbiamo uno di colore che l'ha visto nascere veramente questo Ciclaba Macugnaga, il nostro Ferdinando, Ferdinando Iacchini. Allora, Presidente onorario, raccontaci un po' come è nato lo Ciclaba Macugnaga. Allora, lo Ciclaba Macugnaga è nato il 20 di novembre del 48, però alle ore 7.50. Ecco, perché a Macugnaga siamo precisi. Microfono, microfono. Prima di essere Ciclaba Macugnaga era Ciclaba Monterosa. Monterosa è nato nel 24, 1924. Stiamo veramente parlando della storia dello sci italiano, praticamente. Quindi nel 24 praticamente, logicamente, non c'erano qualche sci adesso, ossia attrezzature e cose del genere. Lo sci era in legno, perché non c'era una plastica, non se ne parava neanche. Penso un po' che io ho fatto l'esame da maestro della sci, con sci di legno ancora, che era nel 77. Tanto per dirne uno. Niente, dopo c'è stata una storia nel senso che, come tutti i Ciclaba, alti e bassi, la stagione che va bene, la stagione che non va bene, perché i risultati si sperano che arrivino. Si spera sempre, però a volte non è sempre così. Però qualche grande campione è nato, Macugnaga, un Ciclaba Macugnaga. Nel show club Macugnaga sono nati parecchi campioni. Se vuoi ti posso anche citarne alcuni. Siamo qui apposta. Allora, iniziamo nel 1930, siamo abbastanza lontani, vecchi. Allora, Rina Piccioni diventa praticamente prima categoria. Prima categoria corrisponde adesso agli azzurri. Poi, andiamo avanti. Andiamo, andiamo. Poi c'è Scrantz Ettore. Scrantz Ettore ha partecipato come prima riserva alle Olimpiadi militari di Gampi nel 1936. Poi Vittorio Iacchini e Aldo Corsi 1951. Sono tutti cognomi che ritornano, eh? Eh sì, tornano, tornano alla mente. Poi Isolina Ciocca. Isolina Ciocca, anche lei prima categoria. 50, adesso le dico più o meno le date, 53, 54. Michele Iacchini, 57, 59. Più o meno, eh? Poi dopo può... Sì, sì. Giusto per avere un'idea del momento. Bebas Scrantz, nel 67. E c'è da dire un particolare qua. Un po' strano. Quando è andata in nazionale, come allenatore c'era Gildo Sirpais, che ha vinto una gara Longine-Samacognaga negli anni, penso, adesso di preciso, penso... Ti ricordi te più o meno? Andrea non c'era. Andrea non c'era. Andrea non c'era. Non è ricordato. Ma non importa, andiamo avanti. Poi Walter Caffoni, chilometro lanciato. Uno degli atleti più luci al mondo è stato. Esatto. Se non sbaglio ha tenuto il primato per 15 anni. Poi vediamo un po'. Barbara Corsi nell'85 e poi non c'è da dimenticare Max Blardone. Ragazzi, Max Blardone... Che ha iniziato proprio con lo sciclo a Macognaga. Ha iniziato a sciare a Macognaga. Penso in poche roba. Quindi Macognaga porta bene, evidentemente. E per finire, diciamo, l'Alberto Corsi. Credo di non aver lasciato via qualcuno, perché mi spiacerebbe. Avremo modo e tempo anche nelle prossime puntate, eventualmente, di ricordarvi. Assolutamente sì. Ok. Non preoccuparti, Ferdinando. Grazie per questa straordinaria testimonianza. Avevi già accennato al fatto che lo sci è cambiato tantissimo, soprattutto in questi ultimi anni. Adesso tu come lo vedi? Come vedi lo sci e come vedi magari anche il futuro prossimo? Ma per me si sta andando troppo, si sta evoluzendo troppo. Nel senso che prima con un paio di sci facevi tutte le specialità. Adesso ci vogliono 4-5 paio di sci. Poi non vanno mai bene. C'è un corto, lungo, non si capisce più in tubo. Per me non va bene questo affare. Ma a me una volta un paio di sci soli, di legno, con le lame, con il ferro e via. Grazie, davvero grazie Ferdinando. A proposito di sci attuale, vediamo come sono andate le gare di slalom speciale che si sono disputate nel weekend del Verbano Cusiossola, il trofeo Romualdo Scilligo a Formazza riservato ai più giovani e il decimo trofeo Flavio Bardel disputatosi proprio a Macugnaga. Via al servizio. Weekend dedicato allo sci alpino, quello appena trascorso. Sabato 11 gennaio in Formazza è andato in scena il trofeo Romualdo Scilligo, slalom speciale organizzato dallo sci club Formazza sulla pista di Valdo. L'Under 10 baby femminile ha visto la vittoria di Giorgia Trecchi del Revolution Ski Race, davanti a Cecilia Manes dello sci club Formazza, a Beatrice Campana dello sci club Goga Mottarone, a Zoe Cecilia Penatti dello sci club Macugnaga e a Dorotea Martina dell'Ossola Schitim. Ossola Schitim protagonista in campo maschile con Sergio Globo, primo, davanti a Nicolo Porta dello sci club Goga Mottarone e a Matteo Grattini, altro alfiere dell'Ossola Schitim. In quarta posizione Brando Anessi del Revolution Ski Race, mentre quinto è giunto Luca Tovaglieri dello sci club Gallarate. Nella categoria Under 12 cuccioli femminile, prima posizione per Miriam Sandretti dello sci club Formazza, davanti alla Portacolori del Revolution Ski Race Alessandra Tabarini e alla compagna di squadra Caterina Manes. La quarta piazza è andata Martina Pagani dell'Ossola Schitim, mentre quinta è arrivata Marta Bianchini del Trubi Ski Team. In campo maschile, ancora un atleta dello sci club Formazza sugli scudi, si tratta di Diego Giaccoletti, primo, davanti a due alfieri del Revolution Ski Race, Simone Schivalocchi Rubini e Federico Tadini. Ancora un atleta dello sci club Formazza, Marco Baglio, in quarta posizione, mentre Giovanni Maria Cairoli dello sci club Macugnaga ha conquistato la quinta piazza. La pista Burki di Macugnaga ha invece ospitato il 12 gennaio il decimo trofeo Flavio Barrel, gara di slalom speciale organizzata dallo sci club Macugnaga. Sono stati oltre 110 partecipanti, divisi in diverse categorie. Tra le Under 14 ragazzi femminile, prima posizione per Gaia Mantino del centro agonistico Domo Bianca, che ha preceduto Beatrice Bertolio del Revolution Ski Race e Cecilia Vicini dello sci club Valle Antigorio. A seguire Greta Farè e Giulia Brusa del centro agonistico Domo Bianca. Fabio Ferraris è stato il più veloce in campo maschile. L'alfiere dell'osso la ski team ha preceduto i due atleti dello sci club Macugnaga, Andrea Schrains e Giancarlo Cairoli. Quarta e quinta posizione per Giacomo Bellini e Federico Gianni del Revolution Ski Race. Ancora Revolution Ski Race protagonista nella categoria Under 16 allievi. In campo femminile, grazie alla prima posizione di Vittoria Galli, davanti a Linda Giacoletti dello sci club Formazza, a Valentina Mader dello sci club Valle Antigorio e a due portacolori dello sci club Gallarate, Matilde Villa e Silvia Brusatori. Tra i maschi a vincere sempre per il Revolution Ski Race è stato Filippo Valditara, davanti a Gabriele De Petris, Pollini dell'osso la ski team e Jacopo Boghi del centro agonistico Domo Bianca, a Davide Tabacchi dello sci club Macugnaga e a Leonardo Innocenti del Revolution Ski Race. Doppietta del centro agonistico Domo Bianca tra i giovani seniores femminile, con Giulia Possa che ha preceduto Silvia Piscetta. Sofia Tabacchi dello sci club Macugnaga ha conquistato il terzo gradino del podio, mentre Virginia Sormani dello sci club Formazza e Vittoria Sola dello sci club Lonate Pozzolo si sono classificate rispettivamente quarte e quinte. Tra gli uomini ha vinto l'atleta di casa Simone Moretti, appunto dello sci club Macugnaga, seconda posizione per Simone Coppi del centro agonistico Domo Bianca che ha preceduto una coppia di atleti dello sci club Macugnaga, Mattia Ghizzo, terzo e Gabriele Leidi, quarto. Quinto classificato Danilo Iacchini del centro agonistico Domo Bianca. Sia le gare di sabato in Formazza, sia quelle di Domenica Macugnaga, facevano parte del circuito provinciale Fisi ACF Refrigeration. Eccoci rientrati qui alla punto vendita di Piedimulera dalla latteria di Crodo. Prima di tornare ai nostri ospiti iniziamo a presentare anche i risultati dei campionati regionali di sci di fondo che si sono disputati lo scorso weekend in Valtellina. Partiamo dai risultati della Gincana, tecnica libera, svoltasi sabato 11 gennaio. Nella categoria Under 14 femminile, primo posto per Stella Giacomelli, sci club Alta Valtellina, migliore delle nostre atlete Alessia Lani, sesta dello sci club Valle Antigorio. Nella categoria Under 14 maschile, vittoria per Nicolo Bianchi e lo Sporting Club Livigno. Sesta posizione per il nostro Mauro Giannoni dello sci club Valle Antigorio. Per quanto riguarda la categoria Under 16 femminile, la vittoria è andata a Manuela Salvadori della Polisportiva Leprese, mentre la migliore delle nostre atlete è stata Ilaria Matri, ottava, anche lei sci club Valle Antigorio. Categoria Under 16 maschile con la vittoria di Axel Artusi dello Sporting Club Livigno. Nostro migliore atleta Gabriele Matri, settimo, anche lui sci club Valle Antigorio. Per quanto riguarda la categoria giovani segno femminile, la vittoria è andata a Martina Bellini dell'esercito, mentre la nostra Lara Cintamori dello sci club Valle Vigezzo è reata non assoluta, ma soprattutto seconda atleta a livello junior. Nella categoria giovani segno s maschili, vittoria per Mattia Armellini delle Fiamme Oro Moena, con decimo Mauro Balmetti dello sci club Valle Vigezzo, ma terzo delle categorie aspiranti e poi dobbiamo annotare anche il settimo posto nella categoria junior per Enrico Galbiati dello sci club Valle Vigezzo e il quarto posto nella categoria senior per Michele Matri, anche lui, lui dello sci club Valle Antigorio. Ma torniamo ai nostri ospiti. Qui al mio fianco abbiamo Daniele Moretti che è il vicepresidente dello sci club Macugnaga. Allora Daniele, come abbiamo visto nel servizio precedente siete reduci da un weekend dedicato all'organizzazione del trofeo Barrel. Per una realtà come la vostra, quali sono le problematiche da gestire nell'organizzazione di una gara di sci alpino che comunque ha già diverse problematiche da affrontare? Ma diciamo che grosse problematiche non ne abbiamo avute questo weekend perché il tempo è stato dalla nostra parte. La società che gestisce gli impianti ci ha messo a disposizione una pista preparata direi veramente bene. Il compito del nostro gruppo di lavoro era quello di far sì che dal primo all'ultimo concorrente potessero trovare la pista diciamo simile. Diciamo che andava bene dal primo all'ultimo a pari condizioni. Che spesso non accade neanche nella gara di Coppa del Mondo. Ecco, spesso non succede. Ma possiamo dire con un pizzico di presunzione che è successo perché se andiamo a vedere i tempi fatti registrare anche dai ultimi concorrenti che sono scesi nella seconda mancia sono molto simili ai primi pettorali. Dunque con un po' di presunzione possiamo dire che abbiamo lavorato bene con tutto il nostro gruppo di lavoro che è formato dai vari consiglieri, dai vari genitori, gli allenatori che sono loro che tracciano. Ecco, quante persone ci vogliono per organizzare una gara di questo tipo? Ma diciamo una quindicina ce la caviamo. Bene, tra lisciatori. Minimo 15. Poi per fortuna abbiamo parecchie persone che ci aiutano. Ecco, tra l'altro avete avuto anche una buona risposta anche dal punto di vista della partecipazione? Sì, avevamo avuto più di 150 iscritti, anche un buon numero. Bene, quindi soddisfazione. Sì, soddisfazione. I prossimi appuntamenti da questo punto di vista? Il prossimo appuntamento a Macuñaga possiamo già dirlo a 1 e 2 febbraio circuito ski race, che è un circuito regionale riservato ai giovani e ai senior. Aspettiamo tutti a Macuñaga, saranno quattro gare in due giorni, tre giganti e uno speciale. In bocca al lupo. Grazie. E allora torniamo allo sci di fondo perché è il momento di ricordare anche i risultati della seconda giornata di gare e campionati regionali. Domenica 12 era in programma l'inseguimento a tecnica classica. Nelle under 14 femminile vittoria per Stella Giacomelli, lo sci-club Alta Valtellina. Ottimo terzo posto per Alessi Alani dello sci-club Valle Antigorio. Under 14 maschile con la vittoria di Nicolo Bianchi dello Sporting Club Livigno. Quinto Mauro Giannoni dello sci-club Valle Antigorio. Under 16 femminile, vittoria per Manuela Salvatori della Polisportiva Leprese con un buon ottavo posto di Ilaria Matri, ovviamente anche lei dello sci-club Valle Antigorio. Under 16 maschile con ancora la vittoria di Axel Artusi, sempre dello Sporting Club Livigno. Nonna posizione per Gabriele Matri, sci-club Valle Antigorio. Decimo Alberto Ambiel, sci-club Formazza. Gioveni senior femminili ancora con la vittoria di Martina Bellini dell'esercito. E ancora una seconda posizione tra le juniores, un ottavo assoluto per Lara Cintamori dello sci-club Valle Vigezzo. Nella categoria giovani e senior maschile, vittoria per Mattia Armellini, Fiamme Euromoena. Undicesimo posizione per Michele Matri dello sci-club Valle Antigorio, terzo tra i senior. Dodicesimo Enrico Balmetti, sci-club Valle Vigezzo, settimo tra gli junior, scusate Enrico Galbiati. E quattordicesimo Mauro Balmetti dello sci-club Valle Vigezzo, terzo tra gli aspiranti. Restiamo ancora con lo sci di fondo perché è il momento di passare alla seconda puntata del tutorial del nostro Ski Man Ex Ski Man Ex della Nazionale Raffaele Matri, appunto sulla preparazione dello sci di fondo. A voi. Lo sci è pronto per la gara. Cosa ci manca però, essendo sci da classico, ci manca la sciolinatura. La sciolinatura, anche lì come per la paraffinatura, dipende dal tipo di neve. Diciamo che si può passare dalle, per quanto riguarda la parte centrale, dalle stick. Questa ad esempio è una base che solitamente va messa prima di mettere il prodotto finale che è quello che ci permette di tenere in salita. Oppure possono essere le clister, anche qua stesso discorso. Prima si mette un prodotto di base e poi sopra si mette il prodotto vero e proprio, quello che fa la tenuta e che permette comunque un certo scorrimento. Perché la cosa difficile, sia nella paraffinatura che nella sciolinatura di tenuta, è trovare il prodotto quello corretto, quello che quel giorno lì, con quella neve lì, con tutti i parametri, che sia il migliore, che sia scorrevole, per quanto riguarda la paraffina e che sia scorrevole e performante per quanto riguarda la tenuta nella parte centrale dello sci. La base normalmente viene messa come colorare, è la stessa cosa. Questa è la base, normalmente viene tirata con il ferro, a temperature non molto elevate, intorno ai 90-100 gradi. Dopodiché si passa con un tappo di sughero e la si distende per bene su tutta la parte centrale. Una volta fatto questo, si aspetta il raffreddamento della base che ho messo col paraffinatore, col sciolinatore, e si passa alla seconda fase della sciolina vera e propria, e qua normalmente si fa una prima mano che viene distesa col ferro, mentre le successive mani, che possono essere da due a tre, o anche quattro, dipende un po' poi dal tipo di sci, che vengono messe a freddo e tirate sempre col solito sughero. Una cosa che ho detto prima, normalmente per gli sci da gara, per evitare di sporcare la zona di paraffinatura, viene messo un pezzo di nastro che va a segnare dove è il ponte di tenuta, che il ponte di tenuta naturalmente viene fuori da, solitamente per sci da gara, vengono misurati con delle macchine, in base al peso dell'atleta si ricava il ponte di tenuta, per cui ogni atleta ha il suo ponte dove la sua tenuta è, diciamo, migliore. Eccoci di nuovo qui presso il punto vendita di Piedimuliera della Latteria di Crodo per la terza e ultima parte di questa sesta puntata di Spazio Neve. È il momento dell'allenatore dello Ciclub Macuñaga, Andrea Iacchini. Allora Andrea, tu alleni degli atleti veramente molto giovani, tra gli 8 e i 12 anni. Quanto è importante la tecnica di base nei primi anni di agonismo? Qui dovremmo aprire, si potrebbe aprire un capitolo... E guarda di che abbiamo pochi minuti. Infatti, non voglio essere troppo, come si può dire, perdermi in ciance. Comunque, si risponde da solo alla domanda. Quanto è importante la tecnica di base? Se parliamo di tecnica di base, 8-12 anni, lo capite benissimo anche voi, che si tratta di base. Quindi è importantissima. Però cominciamo a dividere di che cosa si parla. Tecnica di base inerente a che cosa. Tecnica di base a livello agonistico, tecnica di base a livello percettivo, come possiamo dire. Un bambino di 8 anni ha bisogno di capire cosa gli succede sotto i piedi, gli scivolamenti, i tipi di neve, le condizioni meteo. Per me la tecnica di base a quell'età lì si parla di queste cose qua. Purtroppo, ultimamente, per tecnica di base, a questa età si comincia a parlare già di avviamento allo slalom, avviamento al gigante, avviamento alle discipline veloci. Non mi trovo completamente d'accordo con i miei colleghi di lavoro. A questa età qui io penso che bisognerebbe lavorare molto su quelle che sono le condizioni generali dei bambini. Abituarli a sciare con nevi dure, nevi soffici, neve fresca, fuori pista, poca visibilità, neve invernale, neve primaverile e avanti. Apriamo un capitolo enorme. Insomma, mi stai dicendo, correggimi se sbaglio, che a questa età è importante soprattutto che imparino a sciare bene in ogni condizione e soprattutto a essere sicuri sugli sci. Dal mio punto di vista, sì, l'hai azzeccata. Bisognerebbe che i bambini si sappiano adeguare alle varie condizioni in tutte le situazioni. Quindi una volta che saranno atleti, e per atleti intendo atleti, quindi non si parla di 12-14 anni, per me l'atleta 18-20. E di conseguenza, quando arrivi a 20 anni, devi avere tutto il bagaglio dato dai tuoi allenatori o dalle scuole di sci per saper affrontare una kids'buel in sicurezza e aggressività. Magari anche per vincerla, ok? Bene, sarà interessante approfondire anche nella prossima puntata questo argomento che secondo me è molto molto interessante. Ma, ahimè, oggi è finito il tempo, quindi io ringrazio Stefano Samonini, Andrea Iacchini, Daniele Moretti e il nostro mitico Ferdinando Iacchini. L'appuntamento è per la settima puntata di Spazio Neve, sempre sulle frequenze di Vice Azzurro TV. Grazie ancora e buona serata. Grazie a tutti